sento un fuoco dentro facci divertire, Firebreak Black ops, pronti a sparare Profet ucciso Robot a terra Reaper a terra U avvia a disposizione Firebreak cotto a puntino Profet eliminato Eliminati Perimetro stabilito, quota 10.000 piedi Firebreak eliminato Firebreak eliminato All'UAV resta a metà serbatoio Il delinco ha distrutto il vostro UAV Il delinco ha distrutto il vostro UAV Il delinco ha distrutto il vostro UAV Nel Dump Dump On spolverizzato centro confermato steso unità incendiaria a terra perimetro stabilito vuota 10.000 piedi in modalità stealth Raufet depotenziato ha distrutto il vostro UAV UAV Raufet eliminato Raufet ucciso FIREBREAK COTTO RATZO CINETICA FIREBREAK 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 . . . . . . . . . Approvvigionamento alleato. Successo! UAB di disturbo in arrivo. State vincendo. Avanti così. Versaglio localizzato. Cerberus in arrivo. Demolitrice eliminata. UAB di disturbo in arrivo. UAB in arrivo. Assegno. Arma demolitrice eliminata. Questi sono i black ops che dico io. Fa Tikno. Alla prossima. Alla prossima. isherm Grazie a tutti.